Buona giornata amici da Massimo Fughetti, oggi è mercoledì 18 gennaio 2023 e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV, leggeremo insieme le notizie del giorno dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino e questa mattina abbiamo con noi che commenterà un po' le notizie che pubblicano i giornali Luciano Benini Luciano Benini lo presento ma lo conoscete tutti, è stato un tecnico, si dice un tecnico emerito in questo caso è in pensione ovviamente dell'ARPAM e quindi conosce bene tutti i problemi dell'ambiente ma ha anche un trascorso politico è stato assessore diverso tempo fa, assessore all'ambiente No, assessore al sociale dal 95 al 99 Assessore al sociale, pensate, però è anche molto efferrato nell'argomento dell'ambiente Ma noi cominciamo la nostra trasmissione questa mattina a partire dall'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia, lo vedete qui nella grafica, Santa Maria d'Ungheria Santa Maria d'Ungheria, una principessa, una principessa che nacque nel 1242 visse santamente la sua vita tra la vocazione religiosa, la capacità di soffocare le diatribe familiari per quanto riguarda appunto le successioni dinastiche e la gestione dello Stato a cui l'aveva indicata il padre Bela insieme al fratello maggiore Stefano quindi ha condotto una vita santa dal punto di vista religioso ma anche oculata dal punto di vista della gestione dello Stato Santa Maria, Santa Margherita d'Ungheria e vediamo le previsioni del tempo Vediamo che oggi sulle Marche si presenta un tempo instabile con rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco e temporanee pause asciutte le temperature sono in leggero calo, si aggireranno tra i 4 per quanto riguarda la minima e 10 per quanto riguarda la massima i 20 ispireranno con una tensione media da ovest-sud-ovest sulle coste da sud-ovest invece nell'interno e il mare si mantiene ancora mosso ed ora apriamo i giornali sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico ma lo stesso argomento vediamo che è trattato anche dal resto del Carlino sì perché ieri c'è stata una conferenza stampa dell'amministrazione comunale di Fano sul tema degli affitti e leggiamo subito i titoli affitti, un milione di contributi ma le domande sono in forte aumento si è passati da 398 dell'anno precedente a 623 veramente un incremento considerevole la Giunta dice che Fano ha avuto i maggiori contributi dalla Regione perché dal suo bilancio ha messo più soldi e quindi è stata premiata in questo caso Benini, parliamo subito di emergenza abitativa un problema sociale importante i postulanti, quelli che chiedono una casa popolare sono circa 400 e la risposta purtroppo è quasi pari a zero sono pochissime le case disponibili ce ne sono ma non vengono date non vengono date per problemi o burocratici o perché devono essere ristrutturati hai fatto l'assessore ai servizi sociali quindi è un problema che hai sentito certo, certo venne fuori un paio d'anni fa ci arrivò una informazione diciamo all'interno e scoprimo che 35 case dell'Istituto Autonoma Case Popolare dell'Erap diciamo erano disponibili ma non ristrutturate e quindi non disponibili per i cittadini e questo credo fosse ed è molto grave perché la questione della casa evidentemente è una questione molto rilevante e quindi abbiamo sollecitato fortemente a sistemare queste case perché una volta sistemate 35 abitazioni messe a disposizione a Fano non sarebbe poco e quindi quello della casa è sicuramente un problema che sta dentro il più grande problema del sociale che credo un'amministrazione comunale non possa non avere al centro al cuore delle proprie preoccupazioni perché come si dice si deve governare come un buon padre di famiglia un buon padre di famiglia pensa prima ai suoi soggetti più deboli e quindi questa è una buona notizia credo che il Comune di Fano si impegni soprattutto verso coloro che non avendo la casa hanno bisogno di essere sostenuti in questa direzione quindi è una cosa sicuramente positiva Bene, l'altra notizia invece che funge da apertura sulle pagine di giornali questa mattina è il resoconto della seduta del Consiglio regionale che si è svolta ieri sì perché si sono trattati diversi problemi della sanità soprattutto sono emerse le interrogazioni presentate dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione e vediamo subito uno dei problemi che evidenziano i giornali sul Corriere Adriatico una sola ambulanza di notte Fano è la città più bistrattata 60.000 abitanti di notte una sola ambulanza se capitano due casi di emergenza Luciano Benini cosa fa al secondo caso? Ma è interessante che passiamo dal sociale alla sanità ma che sono due temi molto molto vicini ricordiamo che sulla sanità la giunta regionale precedente di centro-sinistra ha perso le elezioni perché evidentemente è un tema molto sentito e anche a Fano ci sono state iniziative molto molto significative sulla questione dell'ospedale unico eccetera adesso siamo in una nuova fase ma mi verrebbe da dire che la pandemia non ci ha insegnato molto perché se abbiamo capito almeno in teoria che è la sanità di base quella che deve essere potenziata vediamo tutti i giorni invece che a Fano manca ambulanze di notte la guardia medica funziona e non funziona il pronto soccorso non certo per responsabilità di chi ci lavora ma perché ne ho avuto esperienza diretta a Fano e anche in altre città il personale è assolutamente non congruo rispetto alle necessità quindi questi corrono dalla mattina alla sera alla notte ma non ce la fanno e quindi sulla sanità credo che la regione dovrebbe impegnarsi molto molto di più di quello che sta facendo e vediamo che l'argomento è rimbalzato da Fano anche nell'entroterra perché sulla pagina dedicata a Fossombrone leggiamo oggi sul Corriere Adriatico ospedale con primo soccorso divampa la polemica in regione l'impegno di Saltamartini per Fossombrone Saltamartini lo sapete e l'assessore regionale alla sanità suscita la reazione sia del Partito Democratico che del Movimento 5 Stelle altre le promesse aveva detto sempre la Ruggeri che cosa è accaduto? è accaduto che ha provocato una grande delusione coccente su tutto il fronte per il futuro dell'ospedale di Fossombrone le risposte di Saltamartini si prospetta la possibilità di un quasi punto di primo intervento ha testualmente risposto l'assessore alle interrogazioni sia della Vitri che di Marta Ruggeri la Vitri e del Partito Democratico buio pesto dunque sulla richiesta di fondi già sottoscritta anche dalla Commissione Comunale Speciale ovvero il futuro modello organizzativo sanitario della regione Marche prevede l'inserimento dell'ospedale di Fossombrone all'interno della rete ospedaliera della provincia di Pesaro Urbino al contrario di ciò che è stato detto negli ultimi anni con lo status di ospedale di comunità anche l'entroterra dunque Benini soffre di questo problema e forse soffre anche più della costa perché lì l'emergenza ritarda ad essere sopperita rispetto appunto ai centri costieri assolutamente sì perché quando ci impegniamo contro la logica dell'ospedale unico era proprio perché a centrare troppo sulla costa creava grossi problemi ai cittadini dell'interno e quindi qui ci vuole una sanità che sia vicino al cittadino che quindi riesca a dare delle risposte soprattutto sulle emergenze su quelle cose, non dico sulle operazioni che ci capita uno o due volte nella vita ci possiamo anche spostare di qualche chilometro ma la quotidianità, le necessità di tutti i giorni devono essere risposte anche per i cittadini dell'interno non tanto con gli ospedali perché poi ci vogliono anche qui ma soprattutto con una rete di sanità sul territorio quante volte abbiamo sottolineato l'importanza delle strutture nel territorio quelle che prevengono la necessità poi di essere ricoverati e questo è fondamentale soprattutto per i cittadini dell'entroterra che hanno magari gli ospedali più lontani e come vedi il passaggio dall'azienda ospedaliera Marche Nord all'azienda sanitaria territoriale un passo importante un passo importante e dico molto necessario perché quello che c'era prima era una cosa assurda avevamo una struttura ospedaliera una struttura territoriale quasi in concorrenza fra di loro invece che una integrata nell'altra cioè la sanità del territorio deve essere quella che vede il cittadino subito e che per quello che può evita che venga ospedalizzato e se invece sono due strutture che non dialogano fra di loro perché sono appunto due aziende indipendenti è una cosa che non sta in cielo quindi questa è senz'altro una cosa molto positiva che è stata fatta dalla Regione il problema è che non vediamo grandi differenze rispetto a prima perché ancora diamo ancora un po' di tempo ecco ma sulla sanità ancora non ci siamo proprio la sanità rimbalza anche a San Lorenzo in campo dove vediamo una dichiarazione di alcuni sindaci medici pensionati, niente ricette rosse così è inefficace richiamarli in servizio hanno detto i sindaci di San Lorenzo in campo Pergola e Frontone che rilevano il disagio dei pazienti si sono integrati gli organici dei medici che mancano sappiamo quanta carenza c'è dei medici ospedalieri ma anche dei medici di base con i medici pensionati ma se questi poi non possono prescrivere le ricette rosse quelle appunto che fanno riferimento al servizio sanitario nazionale beh la loro opera insomma viene vanificata alla grave carenza dei medici di base di inizio anno di diversi comuni dell'entroterra si è aggiunta un'altra pesante criticità dice oggi il giornale i medici di medicina generale in pensione infatti non possono più prescrivere prestazioni sanitarie con un ricettario del sistema sanitario nazionale la cosiddetta ricetta rossa e questo ovviamente è un problema importante ed ora passiamo al tema dell'ambiente abbiamo detto che oggi si parlava del sociale con gli affitti della sanità ma anche dell'ambiente e vediamo che la notizia la prendiamo da Senigallia Senigallia due nuove vasche di espansione arrivano i fondi della regione ebbene a Senigallia si fa ancora i conti con l'alluvione si cerca di prevenire questi effetti disastrosi che arrivano all'improvviso e creano molti molti danni quasi 8 milioni per ridurre la portata delle piene dei fiumi la cassa di Bettolel verrà ampliata vasche di espansione questa è un po' la ricetta in tutto il territorio anche nell'Arzilla si cerca di attuare questo sistema per attenuare le ondate di piena credi che siano efficaci? ma allora facciamo un passo indietro perché ci troviamo in questa situazione? ci troviamo in questa situazione perché la programmazione del territorio il costruire nel territorio per decenni è stato assolutamente sbagliato quindi si è andati a costruire vicino all'alve dei fiumi in situazioni in cui non si doveva costruire addirittura sono stati tombati fossi tombati piccoli corsi d'acqua e ci troviamo in questa situazione adesso dobbiamo ricorrere a espedienti diciamo che nella situazione attuale certo restano necessari ecco ma quello che è stato fatto in passato è stato molto sbagliato però io penso al presente e al futuro vorrei toccare il tema del PRG di Fano perché Fano sta iniziando non si capisce bene con che criterio se ci saranno i tempi la questione del PRG contemporaneamente fa delle varianti una cosa che non si può vedere cioè pensare che mentre si presenta il PRG si fanno varianti è una cosa che amministrativamente è un pugno nell'occhio veramente ma vorremmo capire se effettivamente c'è ormai la coscienza che non bisogna più costruire molti comuni ormai hanno capito che bisogna fare dei PRG a volumi zero cioè costruire sul costruito recuperare non cementificare o asfaltare nuove strade non mi sembra che questa sia la sensibilità del Comune di Fano ma qui poi possiamo parlare insomma ma restiamo sul tema dell'edilizia perché sulla pagina di Pesaro esiste questo articolo proprio l'articolo di apertura oggi sulla pagina di Pesaro lo vediamo qui eccolo il titolo le cariatidi del lungomare cosa sono le cariatidi? sono quelle strutture edilizie che sono lì immobili ma sono a quanto degradate e vediamo qui appunto uno stabile con i ferri che vengono messi in evidenza ormai si vedono le armature interne perché il cemento è crollato almeno cinque degli hotel non hanno nemmeno progetti di recupero il palazzone con l'armatura a vista d'occhio ed è questo e vediamo in questa tabella il focus sul problema sono cinque gli ex hotel chiusi da più di cinque anni ma che non riqualificano le loro strutture ebbene quelli che magari non hanno più l'intenzione di fare accoglienza vorrebbero che la loro struttura fosse trasformata in appartamenti ma questo ovviamente trova le resistenze della pubblica amministrazione hotel che non sono oggetto di trattative che non riapriranno sono l'Adria il Baltic il Principe il Royal la Rotonda Bruscoli e il Bussola Garden il Cruiser invece diventerà un Urban Hotel adesso che cosa sia un Urban Hotel onestamente non lo so nuova formula appartamenti è Condotel Vienna lungomare Nazario Sauro e poi abbiamo un condominio all'angolo di Viale Fiume da quattro anni che presenta terrazzi ammalorati e ferri scoperti è già oggetto di un'ordinanza comunale antidegrado mai applicata e questo è un problema un po' comune a tutte le località Benini ci sono facciate nonostante che poi c'è stato il bonus l'anno scorso per restaurare questi palazzi che sono molto degradate per esempio a Fano al Pincio che è la meravigliosa area archeologica d'ingresso della città c'è uno immobile che è molto degradato e non viene rimesso a posto ma le amministrazioni comunali hanno la forza per imporre ai proprietari di restaurare i loro immobili insomma magari poi non gliela fanno insomma ma probabilmente di restaurarli all'interno no perché ognuno poi all'interno può fare diciamo quello che vuole però all'esterno visto anche citato il Pincio è stata fatta una riqualificazione importante se una facciata di un edificio resta in condizioni degradate ovviamente in quel caso il comune può intervenire come mi sembra dalla lettura del giornale Pesaro voglia fare cito un altro caso a Fano famoso l'ex Hotel Vittoria perché lì si era trovato un equilibrio fra la volontà della proprietà che voleva fare appartamenti e la necessità invece di mantenere si era trovato un equilibrio un po' un po' avrebbe dato anche un grosso vantaggio alla città e cioè un passaggio dal parcheggio dell'ex chief verso le spiagge dell'Arzilla in modo da avere un bel parcheggio a servizio della zona a mare però non ne abbiamo notizie da anni e non si capisce lì se la cosa andrà avanti o se resta tuttora ferma perché non ci sono stati sviluppi insomma in quella zona C'è un argomento a Pesaro che rimbalza sui giornali da diversi giorni ed è quello della realizzazione di un laboratorio di sicurezza BS13 in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro di agenti virali questo riguarda un po' gli animali insomma vediamo il titolo che appare sul giornale nel laboratorio di biosicurezza niente sperimentazioni in vivo lo chiedono appunto i residenti che temono delle ripercussioni per quanto riguarda poi l'ambiente in cui vivo questo mi dà la possibilità Benini di proporle un problema importante ci sono delle situazioni che sono ormai essenziali nella vita di tutti i giorni vedi per esempio le antenne le antenne per i telefonini sono necessarie però nessuno le vuole vicino a casa propria e anche queste strutture per quanto riguarda la ricerca per quanto riguarda la sperimentazione vengono viste sempre con una certa diffidenza ora come si può conciliare questo modo di integrare il progresso con la possibilità di non nuocere all'ambiente e alle persone ma nel caso delle antenne mi devo autocitare non è bello ma lo faccio perché quando dirigevo appunto il settore radiazioni non ionizzanti dell'ARPAM di Pesaro sono stato il primo a proporre una programmazione delle antenne cioè ho proposto in particolare all'inizio ai comuni di Fano e Pesaro poi anche a qualche comune dell'interno di fare un vero e proprio piano delle antenne in modo che il gestore che propone un'antenna non si limitasse a trovare un luogo con il privato disponibile il rispetto dei limiti di legge e non c'era per il comune nessuno strumento per impedire l'installazione di quell'antenna se invece il comune fa una programmazione individua i cosiddetti siti idonei e sia Pesaro che fanno basta guardare sui loro siti c'è questa programmazione a questo punto questa programmazione fatta dall'ARPAM studiando il territorio andando a individuare la situazione ecco che allora le antenne si possono andare a installare solo lì e non altrove il caso di questo laboratorio è molto sentito perché tutti ricordiamo che all'inizio della pandemia ci fu qualche voce che disse è uscito da un laboratorio di Wuhan poi si negò e poi però una commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità concluse il suo la sua indagine dicendo che non si può escludere che questo questo virus sia uscito da un laboratorio che manipolava e che per un errore e quindi capisco la perplessità dei cittadini di Pesaro che sentendo dire genericamente laboratorio che manipola in vivo in vitro possa avere perplessità ecco anche qui bisognerebbe magari trovare una situazione capire bene che cosa si fa avere dei controlli in modo che anche la popolazione stia tranquilla e ora mi preme evidenziare anche l'esito di una vicenda giudiziaria omicidio stradale il tribunale assolve Isabettini Claudio Isabettini 64 anni è molto noto gestiva un'autorimessa una 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 carrozzeria Claudio Isabettini accusato di omicidio stradale il fatto risale è al 26 agosto del 2021 la vittima è Massimo Pastori originario di Napoli padre di un bimbo di 10 anni l'uomo di 48 anni viaggiava a bordo di una Citroen e dopo aver affrontato una curva andò a sbattere contro una Fiat Banda che arrivava dalla parte opposta un impatto tremendo i due passeggeri furono rimasero prigionieri delle lamiere deformate purtroppo per pastore non ci fu niente da fare morì sul colpo il conducente che si trovava sulla Fiat Panda invece era rimasto ferito e grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Fano era stato estratto senza ulteriori danni dall'abitacolo per essere prontamente assistito dai sanitari del 118 poi c'è stata la vicenda giudiziaria una macchina che ha sbandato ed è andata a cozzare con l'altra macchina che veniva dalla parte opposta ma poi si dice che l'altra macchina che veniva dalla parte opposta magari non era proprio all'interno della sua careggiata invadeva un pochino anche la mezzeria insomma c'è stata tutta la vicenda del tribunale e il giudice alla fine nonostante che il PM avesse chiesto otto mesi di reclusione per Isabettini contando sui benefici del rito abbreviato ha assolto l'imputato per insufficienza di prove ora l'avvocato della controparte attende di leggere le motivazioni della sentenza per avviare un'eventuale azione civilistica per il risarcimento qualora la procura non facesse appello insomma la vicenda ormai dal punto di vista penale ormai si è risotta il problema della sicurezza sulle strade è un problema che noi vediamo e col quale ci confrontiamo tutti tutti i giorni le strade di Fano le strade della provincia hanno molte criticità fare nuove arterie giova alla sicurezza stradale Benini secondo la sua opinione sappiamo come la pensa per quanto riguarda l'arteria dell'interquartieri sì allora in generale ovviamente no non giova perché sappiamo tutti che è come è come un corso d'acqua che ha delle diramazioni se io ne faccio di nuove non ottengo nulla se non facilitare ulteriormente il traffico stradale che invece occorre diminuire come tutte le buone pratiche ci dicono insomma quindi noi siamo in un periodo in cui dobbiamo ridurre il più possibile il traffico stradale privato favorire quello pubblico favorire la mobilità dolce si dice cioè ciclo pedonale e quindi andare a costruire nuove strade non mi sembra tanto più una situazione come Fano perché voglio dire tutti sanno che i problemi veri si hanno arrivando a Pesaro l'altro giorno sono andato all'ospedale di Pesaro mentre andare all'ospedale di Fano tutto sommato non ha grandi problemi all'ospedale di Pesaro ci sono sempre problemi perché l'arrivo a Pesaro è abbastanza problematico per noi fanesi che appunto veniamo dal sud quindi non mi sembra davvero che sia la soluzione ideale aggiungerei questo Milano ha fatto in questi giorni una scelta molto forte perché ha deciso di creare un'enorme zona tutta con il limite 30 km all'ora ora non parlo delle zone fuori delle città dove ovviamente le velocità sono superiori ma in città i problemi veri per i pedoni per i ciclisti per le persone anziane è la velocità e quindi pensare ad una zona 30 a molte zone 30 e il comune di Fano si presterebbe benissimo penso che sia una buona cosa benissimo ed ora passiamo ad un altro argomento perché vediamo che sul resto del carlino oggi abbiamo un articolo che riguarda la fusione tra comuni fusione Montelabate dice no a Vallefoglia l'amministrazione comunale boccia il progetto ne abbiamo parlato ma non ci sono i presupposti per andare avanti ebbene l'amministrazione comunale si è confrontata su questa possibilità pur confermando alcuni incontri informali avuti nell'ultimo anno nel corso dei quali sono fatte alcune valutazioni in merito ad un eventuale aggregazione tra Vallefoglia il comune di Ucchielli e Montelabate Montelabate mi sembra che sia governato da Movimento 5 Stelle esattamente quindi c'è anche questa opportunità insomma i due comuni non sono politicamente molto allineati comunque questa possibilità è stata valutata ma è stata scartata e beh questo ci dà un po' la possibilità Benini di vedere un po' come da una parte integrazioni traenti dall'altra invece istituzioni che vengono soppresse mi riferisco a ciò che sta accadendo ad Urbino per quanto riguarda la diocesi Urbino sta perdendo la diocesi e non ne vuol sapere addirittura il mondo politico si è rivoltato contro la decisione del Vaticano perché vuole che una diocesi dia la possibilità alla città di avere una sua indipendenza di avere un suo punto di riferimento ma non solo Urbino perché poi dagli oggi si comprende anche altri comuni come Urbani a Fermignano a Mercatello del Metauro insomma e altre cose da una parte aggregazione dall'altra disgregazione cosa ne pensi? Ma dunque sul fronte politico diciamo sappiamo che non a caso diciamo l'Italia ha dei comuni quindi è sempre difficile mettere assieme comuni diversi non ne farei una questione diciamo di colore politico mi sembra sciocco che non ci si unisce perché le due amministrazioni sono diverse o ci si unisce perché sono simili bisogna valutare caso per caso in qualche caso può essere un vantaggio può essere una situazione favorevole anche per i cittadini in altri magari no certo quello che non sopporto è la non collaborazione fra i comuni mi devo ricitare un attimo perché quando sono stato in quei quattro anni dal 95 al 99 assessore alle politiche sociali ho subito cercato e trovato devo dire una collaborazione col comune di Pesaro cioè abbiamo fatto delle iniziative comuni magari facendo aprire a Fano un certo servizio a Pesaro un altro e scambiando i relativi diciamo utenti servizi cittadini che potevano avere nessuno dei due era in grado di costituire da tutti e due i comuni un certo servizio ci si è aiutati ma la vicenda religiosa fra l'altro invece mi colpisce del piano politico cioè che la politica intervenga in una decisione religiosa mi sembra veramente sorprendente d'altra parte voglio dire la situazione così delle vocazioni dei preti dei vescovi è quella che sappiamo ma francamente non vedo che cosa possa certo anche la diocesi di Fano si chiama non a caso diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola perché fino a non tantissimi anni fa c'erano quattro vescovi nelle quattro rispettive diocesi bisogna anche qui un po' come sulla sanità tenere conto delle esigenze dell'interno e infatti per esempio la Caritas diocesana cerca sempre di fare anche iniziative e servizi per l'interno perché se no c'è il rischio che venga tutto sulla costa nel caso francamente di peso reurbino è una necessità nei fatti se ne parlava da tanti anni ma non è che Urbino non ha più il vescovo ha un vescovo che è lo stesso di un territorio più vasto quindi francamente non ne farei un problema penso che Fano manterrà il suo non si sa per quanto tempo perché evidentemente se questa tendenza va avanti penso che se penso alle diocesi del Brasile Don Paolo ci raccontava Don Paolo Tonucci ci raccontava la sua situazione in Brasile la regione Marche avrebbe un solo vescovo bene e noi ringraziamo Luciano Benini per la sua partecipazione alla nostra rassegna stampa esaurite il nostro tempo a disposizione quindi salutiamo cordialmente i nostri telespettatori e diamo appuntamento alla rassegna stampa di domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti Grazie.